ma smettila ma che mio è mio 4, 3, 2, 1 Aiaiaiaiaia Benvenuti Ciao a tutti ragazzi Oggi si parte con una nuova E siamo alla quinta volta Dai No dai Ciao a tutti ragazzi Allora oggi come ci avete suggerito faremo una challenge Ovvero Cioppi i banni E' un po' di vita Madonna mia Cioppi i banni La bambina dorme un po' di vita non devi sono attaccati ok allora visto che l'ultima volta che abbiamo fatto questa challenge era 4 anni fa beh io ho vinto 4 anni fa ma non ho più il video purtroppo o devo guardare nell'altro computer comunque magari c'è se c'è vi metterò dei pezzettini qui da qualche parte se non li vedrete non l'ho trovato e insomma mi ha stracciato 4 anni fa e quindi rivincita dopo 4 anni detto ciò direi di vanno le cianci come dico sempre iniziare subito ciappi banni è comodo così diciamo la bocca vuota ma dovete lo stavere non è l'ultimo dente mancante al posto del dente ciappi banni non diciamo parolacce perché magari ci guardano i bimbi scusate mettiamolo qui va facciamo che lo tengo qui tienilo tu qua ciappi banni la sfida si fa intensa avete presente quando dal dentista mettono il cotone sotto le gengiri ciappi banni questo lo mette lì furbo furbo perché tu lo stai mettendo scusi io lo sto fiacicando tutti insieme ciappi banni siamo due a due ciappi banni immagino la scena quanto inquietante ciappi banni ed è il terzo 3 3 a 2 per me ciappi banni inizio a gonfiarmi inizio a gonfiarmi insomma dai ciappi banni quanti siamo? 4 a 3 ciappi banni mi si iniziano a sbagliare siamo in due ciappi banni il problema è quello quanti siamo? vabbè conteremo 5 a 4 tu adesso sei a 5 ciappi banni ciappi banni ciappi banni ciappi banni ciappi banni ciappi banni io ho perso il cotto 7 ciappi banni non mi si nota ancora no ma perché tutti hanno lo stesso no ciappi banni pure il cane si lamenta ciappi banni ciappi banni oddio il capello no no che mi strotta ciappi banni perché quello con la forma strana ciappi banni ciappi banni ci stai confiando anche tu che carino ciappi banni ciappi banni si spostano si però quello è difficile ciappi banni stiamo parlando ancora in maniera normale altra volta eravamo più in difficoltà perché non mi guardi ce lo dico dopo ciappi banni ciappi banni ciappi banni mi escono dei pezzettini beh ciappi banni ciappi banni ciappi banni come quante anni fa dò che è poco lei da 4 anni fa aveva perso ciappi banni ciappi banni ciappi banni ciappi banni ciappi banni si non abbiamo trovato una ciotola quindi stiamo sfruttando il classico sacco dell'immondizia è vuoto non c'è niente dentro, potete guardare ma ciappi panni tanto vinco ciappi panni ma tu te li stai mangiando secondo me ma no ma no, con lo schiuma dove vai? fatti vedere che pedicolo metterassi ciappi panni non è come sembra ciappi panni ti aiuto io ciappi panni ma ha 30 anni ancora ciappi panni ciappi panni non esisto ahahah ciappi panni come? ciappi panni ciappi panni ciappi panni ciappi panni ciappi panni Ciappi banni Mi stanno scoppiando le guance Noi, smettila Ciappi banni A me si stanno scegliendo in bocca Infante Tutto bene? Ciappi banni Ciappi banni Ciappi banni Ciappi banni Ciappi banni Ci supply Ciappi banni Ciappi banni Ciappi banni Ciappi vanni, tocca a te, come che tu non ti gonfio, non puoi, non puoi bere, ciappi vanni, perché non ci puoi vedere, perché sennò va giù, e si sciolgono ciappi vanni, ciappi vanni, ciappi vanni, ciappi vanni, ci sono mai a 30 anni, non puoi bere ancora queste cacatele, ciappi vanni, vincere, 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 oh, non hai detto già più vanni? no che schifo nelle mani vieni qua ma vai via che schifo ma che schifo ma che errore ma no ma nelle mani no le mie guance non avere paura tutto a posto amore mio sono appiccicosa fammi bere prendi anche una salvietta va oddio oddio che schifo ho sentito anche il tuo rutto oh finalmente posso mangiare uno che schifo madonna non ce la facevo più che disastro non posso neanche spegnere un momento la videocamera quindi vi assorbite proprio tutti retroscena ughh oh grazie molto gentile vieni qua con il sacchetto dove veneri no aspetta guarda che dobbiamo chiudere il video no sono tutto appiccicoso allora ho vinto io no secondo me nessuno di due sai oh una parità anzi no io l'ho messo in bocca ho detto ma eri devi io sono partito con uno prima di te adesso dobbiamo contare ma che gioia essendo io il primo a essere partito eh io uno tu uno io due tu due quindi siamo pari ah è vero allora che avresti dovuto fare un punto in più ma poi ti sei messo a ridere colpa tua vabbè dai però rispetto a quattro anni fa che mi hai proprio stracciata di brutto siamo stati bravissimi quattro anni fa arribile posso chiamarti canetto no eh no perché l'altro giorno no sono truccata l'altro giorno se ne è arrivato così ho bevuto un po' d'acqua eravamo seduti sul divano smettila sono truccata e me l'ha sputata addosso e io mi sono vendicata e gli ho squishato un po' di ketchup sulla schiena visto che era petto nudo che puliva casa come un casalingo compulsivo isterico chiudila no fa che così passano gli accaree gli accaree gli accaree vuoi un marshmallow? io uno l'ho mangiato dovevo togliere la soddisfazione ce li avevo tutti in bocca senza poterli mandare giù in realtà a me neanche piacciono i marshmallow e neanche a me neanche a me in realtà detto questo ragazzi spero che questo video schifettoso vi sia piaciuto schifettoso speriamo di avervi strappato un mini mini sorriso vedere tra me e te che sbocchiamo il marshmallow non è il massimo comunque detto questo è stato un piacere ragazzi ciao ciao col pollicione faccio prima ciao 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 ciao